le macchinine colorate e la vigilia di natale l'inverno è arrivato le quattro macchinine colorate stanno scivolando dentro un banco di neve si divertono su una pista da pattinaggio e giocano con le palle di neve è forse arrivato il momento di decorare l'albero di natale? benissimo andiamo a cercare le decorazioni la macchinina rossa sta cercando le decorazioni dentro al banco di neve ehi! ha trovato una pallina blu e cos'altro c'è dentro al banco di neve? una stella speriamo che anche la macchinina gialla trovi una decorazione anche lei sta cercando nel banco di neve una pallina rossa un'altra pallina colorata rossa e verde una stella appendiamo sull'albero quelle che abbiamo la macchinina blu e quella verde stanno ancora cercando delle decorazioni dentro al garage ma è vuoto ma sono vuoti cerchiamo nella piscina di palline colorate la macchinina blu ha tirato fuori una caramella ed eccone un'altra un'altra ancora un'altra ancora un'altra ancora tre caramelle una una due tre grandioso possiamo appendere anche queste sull'albero una due e tre e cosa troverà? la macchinina verde? si sta guardando intorno ha trovato qualcosa? sì! sono dei nastri! sì! dei nastri! bellissimi! wow! anche questo è bellissimo! che cos'è che esce da quel cumulo di neve? macchinina rossa? tiriamo insieme! ah! ecco la macchinina gialla la sta aiutando wow! bellissima! è una grande stella è ora di festeggiare il natale le quattro macchinine sono pronte oh! bellissime queste esplosioni di colori buon natale e felice anno nuovo macchinine e tanti auguri a tutti voi dal cartone dei piccoli al prossimo anno con tanti nuovi episodi ciao! le macchinine colorate e l'albero di natale c'è tanta neve qui! ciao! siamo in montagna oh! arriva il magico treno colorato sta trasportando una pallina verde una rossa una pallina blu e una gialla ed eccoci arrivati al garage dove vivono le quattro macchinine colorate ci aspetta la nostra amica gru la gru vuole preparare una sorpresa alle macchinine colorate si sta avvicinando il natale ed è arrivato il tempo di decorare il garage con le palline colorate a voi piacciono le decorazioni natalizie? ciao! buongiorno macchinine! abbiamo decorato il garage! adesso andiamo a cercare un bell'albero di natale oh oh! guardate! quanti alberi! sono tantissimi quale sarà la macchinina? quale sceglierà la macchinina blu? si! ne ha scelto uno molto bello! adesso la gru lo prende con sé e lo porta sul vagone del treno grazie 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 gru oh! ma questa cos'è? la macchinina rotta? grazie finalmente il treno è arrivato al garage delle macchinine ed ecco la gru che scarica la scatola misteriosa poi posiziona l'albero proprio accanto al garage delle macchinine e adesso apriamo la scatola ci sono le decorazioni e sono magiche possono volare sull'albero e decorarlo da sole guardate l'albero è perfetto per celebrare insieme un bellissimo natale nel parco giochi alla prossima puntata e buon natale dal cartone dei piccoli a a a a a a a a